Si è ormai a ridosso di quella che il primo cittadino di Riasci, Antonio Trifoli, definisce la fase operativa del progetto Riasci 50, promosso sin dal suo insediamento, nell'intento di celebrare solennemente il cinquantesimo anno dal ritrovamento dei bronzi con ricadute di significativa importanza anche nel territorio in cui sono stati rinvenuti, dopo aver sottoscritto una convenzione con la Fondazione Italiana Organismo di Ricerca senza scopi di lucro che tra le sue finalità annovera la promozione di attività culturali, si è proceduto alla costituzione di un comitato di coordinamento istituzionale di altissimo profilo, ottenendo inoltre la diretta partecipazione della Regione Calabria e l'impegno assunto direttamente con noi dal Presidente Occhiuto già nei giorni antecedenti il Natale, ha dichiarato il Sindaco Trifoli, sottolineando la necessità di stabilire al più presto un'agenda di lavoro per poter condividere le finalità e le attività propedeutiche alla realizzazione del grande evento. Sotto il profilo scientifico sono stati previsti interventi di valorizzazione culturale e turistica con soluzioni espositive ed esperenziali. A scopo divulgativo si avrà un grande evento televisivo denominato Riace 50 in onda su Rai 1, una vetrina internazionale presso la mostra del Cinema di Venezia e il premio Riace nel contesto della Festa del Cinema di Roma. In territorio comunale si svolgeranno il convegno di studi, nel segno dei bronzi verrà istituito un percorso multimediale bronzi 5.0 e collaborazione con poste italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico si è pensato alla realizzazione di un francobolo commemorativo stampato dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato.